Sono circa 200 i lavoratori che operano all'interno delle otto cooperative sociali bloccate dall'inchiesta giudiziaria che ha affermato le attività, decapitando i vertici delle società che si occupano essenzialmente della gestione della manutenzione del verde pubblico nel comune capoluogo, in modo particolare nei parchi cittadini, attraverso dei bandi sui quali si è concentrata l'attenzione della magistratura. Così oggi non c'è solo il vento della bufera giudiziaria che soffia forte sul comune di Salerno a destare preoccupazione, fibrillazioni e tensione per il futuro del comune. Oggi a peggiorare il quadro ci ha pensato anche il vento vero, quello meteorologico, che ha causato in più punti della città la caduta di alberi e rami, mettendo però sotto gli occhi di tutti la situazione di stallo fotografata oggi anche da un'interrogazione del consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano. In seguito alle vicende giudiziarie, ovvero l'inchiesta che ha portato agli arresti in carcere Vittorio Zoccola, il dominus delle otto cooperative e ai domiciliari l'ex assessore alle politiche sociali del comune di Salerno, Nino Savastano, consigliere regionale e il dirigente del settore ambiente Luca Caselli, sarebbero state bloccate le attività affidate alle cooperative che sono rimaste attive perfino in periodo di coronavirus con i parchi chiusi, essendo comunque all'epoca ritenuti servizi essenziali. Lo stop con i presidenti delle cooperative che sono stati colpiti da un divieto di dimora a Salerno, come scrive Celano, si sta ripercuotendo sui lavoratori degli enti che già vivevano di remunerazioni poco gratificanti e che ora sono stati bloccati con gravi conseguenze economiche per decine di famiglie. Celano per questo chiede di sapere quali iniziative il comune di Salerno vuole assumere per non interrompere servizi che, appunto, sono stati ritenuti essenziali e non sossependibili neanche durante la pandemia. Sul fronte giudiziario, intanto, si attende la giornata di lunedì, quando, dopo il rinvio legato ad un ritardo nella notifica degli atti, potranno essere ascoltati per l'interrogatorio di garanzia l'assessore alle politiche sociali, Nino Savastano, ma anche gli altri indagati, tra i quali il consulente Felice Marotta e lo stesso sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che sarebbe vicino ad individuare i componenti della sua giunta, nella quale si incrementano le possibilità che rientrino gli assessori uscenti Dario Loffredo e Mimmo De Maio, la stessa Gaetana Falcone ed il medico Pachi Memoli per le donne, ma secondo indiscrezioni ci sarebbero anche profili tecnici e nuovi volti.